di sicurezza stradale. In vista delle partenze estive prende il via una nuova campagna di sensibilizzazione. Ce ne parla Gabriele Manzo. La Fondazione Ania e la Polizia Stradale partiranno da domani e da Forte dei Marmi dove rimarranno fino al 22 luglio, proseguiranno poi dal 24 al 29 luglio a Tropea, dal 31 al 5 agosto a Vieste, dal 7 al 12 agosto a Rimini per concludere poi dal 14 al 19 agosto a Lignano Sabbia d'Oro. Ogni giorno dalle 15 alle 21 un van della Fondazione Ania sosterrà nelle principali piazze di questa località. Il personale della Fondazione darà la possibilità di partecipare ad un quiz sulla sicurezza stradale e di svolgere prove di guida sicura al simulatore. In contemporanea i quiz saranno possibili anche sulle spiagge. Ai partecipanti saranno consegnati gadget a tema tra i quali etilometri monouso con informazioni sulla guida in stato di ebrezza. Tutte le persone coinvolte nell'iniziativa verranno invitate a condividere un pensiero contro gli incidenti stradali usando l'hashtag non rischio perché.